E' Diego del Sonora, siamo nel 2009 ed esce un altro vostro singolo, un altro bellissimo brano, il titolo Io e te, vediamo il filmato. Io e te, vediamo il filmato. Io e te, vediamo il filmato. Ciao. 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 Vero nei tuoi occhi, e non voglio dentro te, Lascia tutte le carette sulle lastre a ride, E' un fuoco tra due specchi, una scia nel filenso del cuore. E' anche se è un'ora, che non ti ho lasciata mai, Lascia tutte le carette sulle lastre a ride, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, Baby, con questo è il tuo amore, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, E' un fuoco tra due specchi, e non voglio dentro te, no 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 e qui siete stati un po' meno fortunati no? la canzone è bella avete dichiarato che siete arrivati un po' meno concentrati? ma più che altro abbiamo davvero avuto da Sanremo 2008 fino a Sanremo 2010 abbiamo davvero avuto un anno e mezzo talmente stressante tra viaggi che la gente non può immaginare quindi probabilmente siamo arrivati un po' stanchi a quel feste tra l'altro questa esibizione era anche venuta bene però le altre prime due esibizioni di quel Sanremo non ci erano affatto piaciute più che altro eravamo un po' piatti un po' stanchi eravamo arrivati un po' stanchi al festival quello si e circa questa esigenza di marketing di cui accennavate prima eravamo prima in camerino ma più che altro perché sai quando esce un artista poi tra l'altro noi avevamo avuto davvero un grandissimo successo con il primo album visto che aveva venduto 120.000 copie il successo all'estero di conseguenza siamo stati davvero per un anno e mezzo spremuti all'inverosimile e comunque poi alla lunga tutto questo stress si spende si è fatto un po' sinistere in questo festival torniamo a a Giorgio e Michi allora è carino comunque che loro dicano queste cose che di solito si tengono nascoste molto carini loro e molto bravi molto bello molto bello l'apporto di Dodi Dodi Battaglia con una produzione molto endrexiana è molto bello è stata una bellissima esibizione molto carica però come lui stesso dice forse le prime per quanto riguarda loro sono perfezionisti sicuramente l'aiuto di uno come Dodi Battaglia che ha un'esperienza alle spalle che ha aiutato molto bene aiuta sicuramente allora stiamo andando a Ricci e a Giorgio il retro